Ciao, sono Claudia e in questo momento mi sto occupando delle stucature su questo pavimento. La fase di scelta delle malte è stata una fase lunga e complessa, in quanto questo è un pavimento caratterizzato da una forza di policremia. Le malte che abbiamo scelto di utilizzare sono una boianca, quindi una malta a base di solo cemento fianco e ossidi, per andare ad integrare tutte quelle fessurazioni poco profonde al fine di favorire la penetrazione della malta all'interno della fessurazione stessa. Mentre le aree caratterizzate dalla presenza di aggregati sono state integrate con l'aggiunta alla malta precedente di inerti, in questo caso graniglia di marmo, di granulometriate in colori diversi, al fine di favorire la lettura d'insieme del malta. Grazie per la visione!